Ciao, sono ingegnere in Mondo Riccardo di Solare alla Casa. Qualche giorno fa un mio collega mi ha inviato una foto di una facciata al lato nord. Adesso ve la faccio vedere. Guardate questa facciata, presente delle macchie nere in punti specifici, in particolare dove presiede il cassonetto, in particolare nel sotto finestra e sui tamponamenti, mentre dove ci sono le travi e i pilastri è tutto pulito. Ma come si spiega tutto questo? Andiamo per gradi. La muffa presente sui cassonetti è data dalla fuoriuscita di aria calda e umida dall'alloggio, causa una cattiva sigillatura del cassonetto stesso. Quest'aria calda e umida ha toccato le superfici, ha creato condensa e da lì le condizioni che hanno formato, hanno causato la muffa. Subito sopra vediamo un'aria pulita. Ma perché è pulita quell'aria? Corrisponde proprio col solaio. Il solaio è più caldo perché quell'aria lì è un ponte termico, quindi l'aria calda interna, il calore prodotto internamente, fuoriuscito dal ponte termico e ha evitato la formazione della condensa. Subito sopra abbiamo un sotto finestra con di nuovo il problema. Ma perché si presenta lì il problema? Perché è una casa di recente costruzione e il sotto finestra è ben coibentato, quindi è freddo, il vapore fuoriuscito dal cassonetto, si è depositato anche lì e ha creato condensa e poi muffa. Vediamo adesso le altre parti. Abbiamo un caso stranissimo. Travi e pilastri perfettamente puliti e tamponamenti con problema di muffa. Sesso motivo, travi e pilastri un ponte termico è caldo, non si forma condensa perché il calore interno la fa evaporare, dove c'è il tamponamento ben coibentato, quindi è più freddo, si è creata condensa e quindi muffa. Vedete, è un caso diverso, è tutto il contrario di quello che ci può presentare all'interno dell'abitazione. Interessante, vero? Ma come risolvo questo problema? L'unico modo è intervenire con delle finiture superficiali idrofughe, in modo che l'umidità dell'ambiente non si depositi, ma si formi delle gocce perché la superficie idrofuga, il colore idrofugo per tensione superficiale è in grado di respingere le molecole dell'acqua, in modo che colino giù dalla parete senza depositarsi, senza formazione di muffa. Altro intervento, ma è temporaneo, additivare la vernice esterna con l'antimuffa. Tuttavia sappiamo tutti che tutto ciò che è chimico inserito all'interno di un prodotto edilizio, una volta esaurito il principio attivo, ahimè, ritorna al problema. Per oggi vi saluto. Ciao, grazie.